Rissezione di Federici, poi Grozer martellata, difesa da Rinaldi, Baranovic in qualche maniera. Il pallonetto tenuto da Federici, palata per Grozer! Un colpo pazzesco per Georg Grozer! Bagger per Grozer, a tutto braccio! E chi poteva pensarlo? Grozer ha una martellata fattesca, rimette in moto Monza. Sbuccia la palla, allora ti salva Monza, poi Grozer! Super martellata da qualità, Georg Grozer! Per lei per Rinaldi, Baranovic per Pogba non tiene viva anch'io questa! E lei, che manda il set point, il secondo set! Baranovic per Raffaelli, il muro, poi la difesa di Grozer, Orduna per lo stesso Grozer! Poi la tiene su, Orduna cambia lato per Grozer! Parallela la velocità della luce per Georg Grozer! La flotta è ricevuta da Giavorano, Orduna per Grozer, a tutto braccio! Marla va a prendere, ma la palla finisce nel pacchetto! Ehi, per Grozer ti abbatta Rinaldi, 4 a 2! E dall'altra parte Grozer, fai te a non murarlo Grozer! Dai tu a prescurarlo! E' il punto! Eccolo! Lupus in fabula, Georg Grozer! Davi schiva per Grozer! Stanley Goveson per lui, un po' di riposo posso immaginare!